Se due corpi si strofinano, solo la pelle si sta toccando, giusto? Io mantengo quel tipo di relazione con le persone, in cui le mie energie vitali riverberano con la loro energia vitale. Le piante che producono frutta troppo presto non diventeranno mai alberi pienamente sviluppati. Allora, la prossima domanda è stata fatta da Rahul. Qual è l'età giusta per avere un amichetto o un'amichetta? Rahul vuole un amichetto? È legale, eh? Penso che ogni bambino abbia amichetti o amichette. Sì? Perché? Quando avevi tre, quattro, cinque anni, non avevi amichetti o amichette? Li avevi. Ora stai dando un nuovo significato a questo semplice amico. Un amico non significa necessariamente che devi avere una relazione fisica con lui. Ci sei? Questo è qualcosa che hai acquisito da alcune società in cui il corpo è tutto. Perché è diventato così oggi? Era solo negli USA, ma oggi è ovunque. Se dici una relazione, le persone pensano che sia una relazione basata sul corpo. Non ho una relazione con te in questo momento. Non hai una relazione con i tuoi genitori, i tuoi amici, i tuoi insegnanti. Non hai una relazione. Ci siete? Sì? Ma non puoi dire, se dici, ho una relazione con il mio insegnante, penseranno che stai facendo intrallazzi con il tuo insegnante. Perché sei diventato così? Vedi? Il problema è solo questo. La tua intelligenza è stata dirottata dai tuoi ormoni. Se dico, sei mio amico, significa che devo avere a che fare con il tuo corpo. È una necessità? Ci siete? Non possiamo essere, ok, sei una ragazza. Sei mia amica. Ma non posso dire che sei la mia amichetta, perché sarà inteso in modo diverso. Il motivo per cui questo è successo è, stiamo dando troppo significato alle relazioni basate sul corpo. Devi capire, ci sono relazioni più profonde del corpo. Puoi mantenere relazioni così profonde con le persone, senza che il tuo corpo ne sia coinvolto. Non è così? Possibile o no? Una relazione basata sul corpo potrebbe essere necessaria con qualcuno. Questo va bene. È una tua scelta. Ma ciò è possibile solo in un modo limitato. Tuttavia, l'amicizia e le relazioni sono possibili a vari livelli, con un numero enorme di persone. Possibile o no? Puoi mantenere relazioni intime con migliaia di persone. Io ho una relazione molto intima. Per il modo in cui sono seduto qui adesso, presumo una certa intimità con te. Ma se uso la parola intimità, la gente pensa che due corpi dovrebbero strofinarsi. Se due corpi si strofinano, solo la pelle si sta toccando, giusto? La pelle è la copertura più esterna di chi sei. Come può questo essere intimo? Io non lo considero intimo. Io posso penetrare le persone. Non solo le loro menti e le loro emozioni, le loro viscere, il loro stesso processo di vita. Io mantengo quel tipo di relazione con le persone, in cui la mia energia vitale riverbera con la loro energia vitale. Quello è intimo. Quello è davvero intimo. Lo strofinarsi del corpo, va bene, può essere una necessità a un certo stadio della propria vita. Va bene. Non stiamo cercando di renderlo giusto o sbagliato. È una propria scelta. Ma non farne la base dell'amicizia. Perché non puoi essere amico con tutte le ragazze e i ragazzi intorno a te? Ci siete? In sostanza, stai chiedendo, a che età dovrei entrare in relazioni orientate sessualmente? È questo che stai chiedendo. Penso che renderesti un grande servizio a te stesso e al mondo, se eliminassi questa cosa dell'amichetto o amichetta e lo chiamassi qualcos'altro. Chiamali la tua storia romantica o la tua relazione amorosa o quant'altro. Perché amico, la parola amico, deve essere dissociata dal corpo. È molto importante. Altrimenti le amicizie non accadranno. Tutti saranno così. Perché se dico, sei mia amica, lei ha paura, inutilmente. Non è così? Se dico, lei è mia amica, lei avrà timore. Cosa ha in mente? In che modo è mio amico? Dissociare la parola amico dal corpo è molto importante. Lasciate che le amicizie accadano ovunque. Le relazioni basate sul corpo avvengono con un altro individuo. Questo è diverso. E' una tua scelta. A che età? Vedi, quando sei nell'istruzione, se non prendi il controllo di questi strumenti, in questa fase della tua vita, credimi, il tuo corpo, la tua mente, ti faranno inciampare in così tanti modi per tutta la tua vita. Non sarai tu a dominarli. Ti domineranno loro. Questo non dovrebbe succedere. In questa fase della tua vita, che la focalizzazione sia fondamentalmente su come far crescere te stesso al miglior livello possibile dentro di te. non avere fretta di vivere. Vivere avverrà un po' più tardi. Se vivi troppo presto, non vivrai troppo bene. Non cercare di vivere troppo presto. Non sono una persona moralista che ti dice, fai questo, non fare quello. Se qualcuno ha un bisogno così compulsivo, possono farlo. Ma non tutti devono farne una tendenza. E se sei all'università, devi avere una relazione orientata sessualmente con qualcuno. Non esiste una compulsione del genere. Non esiste regola simile che deve essere così. Si può crescere. Cioè, l'ho già detto prima, ma devo dirti questo. Tra i coltivatori di mango c'è una pratica. In tutta l'India, questo è ben noto. Se pianti un alberello di mango, entro 12-14 mesi la fioritura avverrà, quando arriva la stagione. Un coltivatore di mango rimuove meticolosamente ogni fiore dalla pianta, perché se lo lasci andare, darà frutti. Uno o due frutti nasceranno da questa pianticella. Solo quelli, a cui non è concesso di fare frutti per 3-4 anni, diventeranno alberi completamente sviluppati e produrranno molti frutti. Le pianti che danno frutti troppo presto non diventeranno mai alberi pienamente sviluppati. Quindi un coltivatore di mango ha questa saggezza. Continua a rimuovere ogni fiore. Allo stesso modo, l'essere umano non dovrebbe avere fretta di vivere. La cosa importante è che prima di provare a vivere, tu sei in un posto abbastanza elevato, così la vita si dipanerà bene per te. Se vivi troppo presto, allora potrebbe diventare un'impresa in salita per tutta la vita. E domani molte tribolazioni accadono. Se vai nelle università occidentali, ero alla Ross Business School proprio questa settimana. Ero alla Ross Business School, poi alla Harvard Business School. E se guardi lì, non so quali siano le percentuali, ma le persone mi dicono, o se solo ti guardi intorno vedrai, la maggior parte dei volti lì sono indiani, cinesi e così via. solo il 40% circa sono di razza caucasica o bianchi americani. Sebbene siano la popolazione in maggioranza lì, perché questo succede? Queste famiglie indiane e cinesi, i loro figli, hanno un certo sistema di supporto e devono vivere con i propri genitori fino a 25 anni circa, finché non finiscono l'università. mentre generalmente nelle famiglie bianche, quando hanno 18 anni, i ragazzi sono fuori dalle famiglie, vivono tutti con il proprio partner, attraversano problemi emotivi, devono fare un po' di soldi per questo e quotidianamente, la sera, devono prendersi cura del proprio partner. Niente tempo per andare in biblioteca, niente tempo per studiare. Tutti i più bravi sono indiani, della comunità ebrea o cinesi. Guarda solo tutte le università degli USA. Cosa significa questo? Tanti americani non terminano nemmeno l'università, solo perché hanno un amichetto, un'amichetta, e non sarà sempre liscia. Cose accadranno, scompigli quotidiani, problemi, sai? Ogni giorno queste cose accadono. Ora, devi capire che questo è un momento della tua vita in cui sei al più alto livello di energia. In questo stadio della tua vita, se crei una certa focalizzazione ed equilibrio dentro di te, questa energia si tradurrà in qualcosa di fantastico. Ma in questo stadio della tua vita, se non porti focalizzazione ed equilibrio e te lo guadagni, diciamo che quando avrai 40-45 anni non avrai la stessa energia. Questo è qualcosa che non capisci. Pensi che questo livello di energia sarà lì per tutta la vita. No, no, no. Passerà. È solo questione di 8, 12, 15 anni al massimo. Dall'età di 14 anni ai 30 c'è un certo incremento di energia. In questo periodo, se impari a gestirlo, a mantenere equilibrio e focalizzazione alla tua vita, porti focalizzazione alla tua vita. Questa vita funzionerà e si svolgerà al livello più elevato di vita. Se non porti queste cose e hai fretta di vivere, allora vedrai che diventa un'impresa in salita. Non che non ce la farei affatto, potresti farcela, ma conflitti non necessari per tutta la vita. Quindi è una scelta individuale. Se qualcuno ha una compulsione così forte, può seguirla. Non farne una tendenza che se sei all'università devi avere una relazione basata sul corpo. Non è necessario. allora bene 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 bene. Non è necessario. Non è necessario. No è necessario. Abbiamo r Haiti.